Allora, girando per Skyrim Prisamente qua Vicino alla strada fattoria di Loryus Sto qua, sto a livello 1 E sto facendo qualche missione così a caso Senza neanche la quest principale Sto con un gacitte E girando ho incontrato Cicero Il contadino sta nella fattoria Dove altro dovrebbe essere Si chiama Loryus Parla con lui Convincilo ad aiutare il povero Cicero Il contadino sta nella fattoria Io praticamente già ci avevo parlato con Cicero Prima di fare il video E lui te sta trasportando la Madrenotte E ti dice che la sta portando in una nuova cripta Ma gli si è rotta la ruota del carro Gli serve che il contadino lo aiuta Oh, per l'amor di Mare Cosa c'è ora? Quel taglialegna di Cicero? Dimmi qualcosa di nuovo Quel pazzo mi ha già chiesto di aiutarlo almeno 5 volte Pare non sia soddisfatto della mia risposta Perché non ci lascia in pace? Pagare? Pensi sia una questione di denaro? Hai visto quel luogo? È completamente fuori di testa Un giullare qui a Sky Erano secoli che non se ne vedeva uno E trasporta una cassa gigante Dice che si tratta di una vara E che sta andando a seppellire sua madre Roba da non crederci Potrebbe nascondere di tutto lì dentro Materiale di contrabbando Armi Scuma Non voglio avere niente a che fare con tutto ciò Cosa? E tu chi saresti il nome di Mare? Osi venire qui a dirmi come fare il mio lavoro E per cosa? Per aiutare un... Uno sciocco Ascolta Io... Io... Hai ragione Il taglialegna potrebbe essere uno svitato O forse no Ma ha bisogno d'aiuto Che razza di uomo sarei se gli voltassi le spalle? Ascolta Grazie E ti chiedo scusa per la mia brusca reazione Se ti capita di parlare con Cicero Digli che andrò ad aiutarlo presto Se ti serve qualcosa Parla a mio marito Vantus Lorenz Oh, sono Lorenz Povera madre La sua nuova casa Sembra così lontana Tu L'hai fatto? Lui lo farà? Oh, straniero Hai reso Cicero così felice Così è uforico E raggiante Di più Ancora di più Mia madre Ti ringrazia Ecco Ecco Per il disturbo Oro splendido E suonante Qualche moneta per una buona azione E... E grazie Grazie ancora Io qui ancora devo iniziare a fare Le quest della confraternità oscura Naturalmente Mi ha dato 250 oro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti